Ci sono momenti nei quali, magari scorrendo qua e là tra le notizie, vieni colto dalla cosiddetta folgorazione. E' quanto ci è capitato nei giorni scorsi, andando a leggere su un quotidiano online del Nord Italia della stipula della Convenzione tra la Regione Lombardia e la società EP Produzione, che realizzerà presso l'impianto termoelettrico di Ostiglia una cittadina di poco meno di 7.000 abitanti, una nuova unità a ciclo combinato con turbina a gas. In base alla Convenzione, l'AEP Produzione si è impegnata a versare circa 8 milioni per 7 anni che verranno ripartiti tra i comuni della zona. Quindi le convenzioni tra grandi società che hanno importanti e a volte inquinanti insediamenti industriali e i territori interessati esistono ancora, non sono state superate dai tempi come erroneamente avevamo pensato. E allora ci si chiede per quale motivo a Civitavecchia non si stipulano convenzioni con i grandi soggetti economici che operano nella città e che in questo territorio riescono ad avere importanti profitti? Fatta eccezione per Enel, che sulla base non solo di una convenzione, ma di un rapporto col territorio consolidato in decenni di attività, continua a sostenere diverse iniziative di carattere sanitario, sociale e culturale. Nessun altro soggetto economico di dimensione nazionale o internazionale versa un centesimo in favore della città dove opera e dove accumula profitti per milioni e milioni di euro. Abbiamo cercato a Palazzo del Pincio la convenzione con Tireno Power, ovvero la società che gestisce l'impianto di Torre Valdaliga Sud tuttora in esercizio. Al pari della vicina TVN, quella centrale alimentata a tubo gas è regolarmente in funzione e la società proprietaria non risulta in perdita. Anzi, c'è stato detto che non esiste alcuna convenzione che regoli il suo rapporto con il comune e quindi con la città. Analogo il discorso ovviamente per i grandi utenti del porto. Ci si fa scudo con le ricadute economiche e occupazionali delle diverse iniziative, ma anche dalle altre parti vi sono ricadute occupazionali. Nella centrale di Ostiglia, tanto per capirci, non lavoreranno dei robot ma persone in carne e ossa e le imprese locali avranno appalti di manutenzione e servizi. Eppure per un gruppo a turbo gas il territorio avrà una compensazione annua di 8 milioni di euro per 7 anni, soldi che serviranno a migliorare la qualità della vita di quelle zone attraverso le iniziative che i singoli comuni vorranno intraprendere. Qui invece, nella terra dei cachi, evidentemente la cosa è impossibile.